Abbiamo iniziato la nostra collaborazione con Epta Costan nel 2015 e devo dire che abbiamo apprezzato la loro professionalità e la loro correttezza e puntualità sia nell'installazione e in quello che noi avevamo richiesto, come qualità di prodotto rispetto anche al servizio prestato per portarlo avanti. È essenziale nel nostro settore avere un partner, in questo caso Epta si è dimostrato tale perché riusciamo a dare poi ai nostri clienti una qualità e un servizio migliore. Epta si è dimostrata ancora di più all'avanguardia e ci potrà essere di supporto anche in futuro. Grazie.